Grazie. È l'unica cosa che riusciamo a dire dopo queste incredibili 24 ore. Pochi minuti fa, infatti, la Polizia Postale di Napoli ci ha notificato la revoca del sequestro e dell'oscuramento preventivo dei video relativi all'inchiesta Follow the Money sui fondi della Lega. Grazie. Perché senza l'enorme mobilitazione in difesa di fanpage, di tanti colleghi giornalisti, politici, cittadini, tutto questo, ne siamo convinti, non sarebbe mai avvenuto. Grazie, anche se non c'è nulla da festeggiare. Non c'è nulla da festeggiare, per prima cosa, perché abbiamo semplicemente difeso un diritto che credevamo acquisito, quello della libertà di stampa, che invece c'era stato improvvisamente e incredibilmente negato. Non c'è nulla da festeggiare perché da ieri abbiamo maturato la consapevolezza che esiste un pezzo di paese per cui si possono oscurare inchieste giornalistiche e interi giornali senza colpo a ferire. Non c'è nulla da festeggiare perché da nessuna parte, nemmeno nella revoca, si attesta che nessun contenuto giornalistico possa essere oscurato o sequestrato, salvo nei casi previsti dalla Costituzione, tra i quali non rientra la diffamazione. Non c'è nulla da festeggiare perché noi siamo un giornale grande, con tantissimi lettori e una community enorme. Ma se quello che è successo a noi fosse successo a un piccolo giornale, con pochi lettori e senza la capacità di difendersi o di farsi difendere, ci sarebbe stata, secondo voi, una revoca del sequestro e dell'oscuramento in appena 24 ore? Conoscete già la risposta. Forse non l'avrebbe saputo nessuno. Forse addirittura. È già successo e nessuno l'ha saputo. E di fronte a notizie scomode, inchieste difficili, nomi potenti, avremmo meno giornalisti disposti a rischiare per fare bene il loro lavoro. Sembra impossibile? Anche quel che è successo a noi lo sembrava. Fino a che non è successo. Ecco perché non dobbiamo abbassare la guardia. Oggi abbiamo vinto una piccola grande battaglia. Ma la guerra è lunga ed è appena cominciata. Grazie a tutti.